Buongiorno a tutti, sono Simone Billi, siamo qui oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati per presentare il research textbook del diritto societario. Gli autori sono il professor Pierre De Gioia, professor in law in Gran Bretagna e sollicitor, che è qui alla mia destra, Camilla Della Giustina, dottoranda di ricerca e tirocinante presso la Corte Costituzionale qui a Roma, poi abbiamo alla mia sinistra Roberto Ranucci, professore associato di diritto commerciale dell'Università Mercatorum e collegato online da Londra, Valeriano Drago, avvocato e sollicitor, presidente dell'associazione Italoies, gli avvocati italiani nel mondo. Io do subito la parola al professor De Gioia per il suo intervento, per presentarci questo libro e per spiegarci più in dettaglio di cosa si tratta. Prego professore. Sì, ringrazio l'onorevole Billi per questo invito e per questa opportunità di introdurre il nostro libro. Il libro ha un titolo che è interessante, il research textbook del diritto societario, ma anche un sottotitolo che è ancora più stimolante, che è il common law metaverso e la sostenibilità. Quindi che tipo di operazione abbiamo fatto? È un'operazione di tipo scientifico, ma anche un'operazione di tipo operativo. Sono un cittadino britannico, sono un professor of law in Gran Bretagna, Advanced High Education York e sono un North Republic solicitor in Scozia, Edimburgo. Da quasi vent'anni in Gran Bretagna e sistematicamente facendo dei corsi durante l'anno accademico di company law di diritto societario, ho pensato che forse c'era un qualcosa che poteva essere utile all'Accademia italiana e anche alla platea dei practitioners, di coloro che fanno assistenza legale, oltre che agli operatori. Perché il textbook, perché quindi un textbook, che cos'è il concetto di research textbook? È un manuale, ma è un manuale di diritto societario che ha anche molti spunti di ricerca, oltre che degli spunti pratici per gli operatori. In particolare, pur apprezzando tantissimo la dottrina italiana che mi ha formato inizialmente, pensavamo che nel panorama dei testi giuridici italiani, focalizzati sul diritto societario, quello che si chiama forse in Italia più correttamente diritto commerciale, mancava un testo che analizzasse non soltanto il diritto italiano in materia societaria, ma anche il corrispondente di oltremanica, quello che si chiama comunemente common law. Come sapete, oltremanica, nella mia Gran Bretagna, il diritto si chiama common law per distinguerlo dal civil law, che è il sistema giuridico adottato nei paesi continentali europei. Noi in Gran Bretagna abbiamo un diritto, il common law, che banalmente, semplificando, si basa principalmente sul precedente, quello che dicono i giudici è il precedent e che rappresenta la regola di diritto. Il giudice in Italia, in Germania, in Francia, quando decide, la domanda che si pone è come decideremo, invece, in Gran Bretagna e nei sistemi di common law, quindi anche nelle ex colonie britanniche, nei paesi che parlano lingua inglese, per semplificare, il giudice quando deve decidere una controversia si fa questa domanda banale, non come decideremo, ma come abbiamo deciso, perché la regola viene individuata nel passato, in ciò che ha deciso, che ha statuito il collega in quella materia simile. Il diritto societario, partendo da questo, noi cerchiamo anche di analizzare, non direi in modo comparato, ma in modo parallelo, i due diritti, il diritto italiano e il corrispondente istituto giuridico oltre manica nel diritto inglese e nella legislazione britannica. Lo facciamo perché ciò possa essere utile anche per la platea, essendo il libro scritto in italiano per gli eccellenti giuristi italiani, per dare un contributo al dibattito su alcuni concetti istituti giuridici che sono a volte analizzati in Italia sulla base anche di preconcetti, quindi noi sfatiamo molto spesso su alcuni istituti giuridici dei miti, ad esempio il mito che la società, la company, quindi la società per azioni, per intenderci la PLC o la limited, siano assolutamente efficienti e siano rigorosi. Vediamo ad esempio che nell'ambito del diritto societario britannico manca un sistema di controlli così rigoroso come quello italiano, che non esiste, ad esempio il collegio sindacale che invece è nel sistema italiano, appunto è totalmente assente in Gran Bretagna. Quindi sfatiamo una serie di preconcetti, oltre che concetti giuridici che sono in Italia, offriamo uno spunto operativo, uno spunto agli operatori italiani, alla dottrina italiana, agli operatori anche ovviamente perché è vero che vi è stata la Brexit, questa Brexit votata nel 2016 e operativa dal 31 gennaio del 2021 in modo totale, comunque non esclude, anzi a mio avviso rende ancora, a nostro avviso rende ancora più importante questo parallelo fra il diritto italiano e il diritto societario britannico, perché direi la comparazione, il parallelo con il diritto britannico, con la legislazione britannica diviene ancora più importante perché essendo noi in Gran Bretagna non più assoggettati alle linee guida, che sono in realtà principi, precetti vincolanti di Bruxelles, siamo in grado di elaborare una nostra normativa in modo più autonomo. Quindi la comparazione al di là delle valutazioni politiche sulla opportunità o meno della Brexit non c'è dubbio che la comparazione fra Italia e Regno Unito diventa in primis nell'ambito societario sempre più importante e significativa, perché le differenze che fino al 2021 non erano così rilevanti adesso lo possono divenire e quindi è un'area degna di analisi e di osservazione. Il sottotitolo quindi il Research Textbook del diritto societario, Common Law, non poteva che essere il sottotitolo Common Law perché facciamo questa costante analisi parallela con la legislazione britannica. Voglio anche sottolineare come in Italia si parla spesso di diritto inglese, essendo di Edimburgo, britannico, ma anche scozzese, sottolineo anche con orgoglio, scozzese, non soltanto con nazionalismo rabbistico e di football, essendo un supporter della Scozia e non certamente dell'Inghilterra, come esiste in Gran Bretagna e lo svela questo libro, ma lo sanno già molti operatori, che non c'è soltanto un diritto inglese ma c'è anche un diritto scozzese, anche se nella materia societaria, nella materia del business law, quindi del diritto del lavoro, employment law, nel diritto bancario e nel diritto societario, queste differenze fra i due ordinamenti vengono superate dall'esservi un'unica legislazione, fra l'altro in un'Italia che si interroga sempre di più sul federalismo o su altre forme di autonomia, questo libro credo che offra anche uno spunto di riflessione di tipo gius pubblicistico, anche ai politici che vogliano pensare a come formare in futuro un'Italia che presti attenzione alle autonomie, quindi il diritto societario e anche il common law, il common law scozzese, Scottish common law, English common law e la British legislation, la legislazione britannica come punto di riferimento e poi il metaverso e la sostenibilità, l'area societaria è quella in cui l'intelligenza artificiale si vanno affermando come temi cruciali e ovviamente la sostenibilità, fra l'altro la legislazione britannica è la prima che ha introdotto nel 2006 il concetto ISG, anche se lo ha introdotto in modo controverso come una sorta di specchio per le allodole secondo alcuni e quindi questo viene spiegato anche nell'ambito del testo. Io mi ero prefisso e se la Chair, se il Presidente è d'accordo, non è vero Billy, di parlare cinque minuti, temo di non essere stato troppo britannico e particolare scozzese di aver superato questi cinque minuti, quindi essendo non ho contato il mio tempo attorno agli otto minuti, mi taccio e do la parola nuovamente al Presidente Billy, ringraziando ovviamente i relatori e contando nella magnanimità dei relatori di Roberto Renucci e di Valeriano Drago che mi aspetto facciano da Devil's Advocates, di avvocati del diavolo del mio libro, in questo caso avvocati del diavolo benevolenti piuttosto che malevolenti. Quindi grazie ancora all'onorevole Billy e a tutti voi per essere intervenuti. Grazie professore, io darei la parola alla dottoressa Della Giustina che prego anche di integrare la mia breve presentazione che ho fatto di lei qualora fosse necessario, prego dottoressa. Buon pomeriggio e grazie a voi per questo invito, per questa opportunità. Prova a premerlo meglio. Adesso dovrebbe funzionare, quindi buon pomeriggio e grazie a lei onorevole Billy per questa possibilità e per questo prestigioso incontro. Anch'io seguendo le indicazioni del professor De Gioia Carabellese mi atterrò intorno ai 5 minuti e spero quindi rispettare la tempistica. Riprendendo un attimo le indicazioni dell'onorevole, appunto io sono una dottoranda di ricerca e attualmente tirocinante presso la Corte Costituzionale, abilitata all'esercizio della professione forense e nell'anno precedente, nei due anni precedenti, ho svolto dei periodi di ricerca all'estero presso istituzioni sia scozzesi che britanniche. È un onore per me intervenire a presentare appunto, seppur brevemente, questo libro di cui sono coautrice e appunto per questo ringrazio il professor De Gioia Carabellese per l'opportunità. E se appunto l'intervento del principale coautore quindi di colui che ha la CER di questo libro fondamentalmente è stato incentrato sul common law e sulla comparazione, io mi focalizzerò di più sull'aspetto di tecnologia e di incursioni tra il diritto pubblico e il diritto societario. E questo perché? Perché secondo l'impostazione che abbiamo voluto fornire in questo libro vi è l'idea secondo la quale vi sia una commistione tra i diversi settori scientifico disciplinari e se vogliamo anche aumentati o comunque potenziati dalla riforma costituzionale venuta con la legge costituzionale 1 del 2022 in base alla quale appunto sono stati apportati delle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione e se vogliamo in estrema sintesi viene sancito che l'attività economica privata deve rispettare non solamente il diritto alla salute ma anche l'ambiente, gli animali e quindi di conseguenza un'ottica di sostenibilità anche per quanto attiene l'esercizio di attività economiche, produttive e organizzate. E questa è la prima motivazione e quindi una lettura costituzionalmente orientata e che comunque fa leva sia sugli articoli 9 e 41 ma anche 44, 45, 46, 47 della Costituzione. Per quanto attiene all'ambito del metaverso quindi della tecnologia non si potevano ignorare le incursioni che queste nuove società, le big tech, hanno apportato e che comunque continuano ad apportare in tutti i settori scientifico disciplinari ma soprattutto quelli attinenti alla concorrenza, alla regolamentazione dei mercati e anche all'ambito societario del diritto commerciale. Tuttavia l'idea alla base, se vogliamo, di questo manuale di ricerca è che sebbene non fosse possibile ignorare questa spinta tecnologica non si potessero dimenticare gli istituti classici del diritto e questo perché? Perché fondamentalmente non è possibile che vi sia un futuro senza una tradizione e quindi riprendendo gli istituti antichi, anche facendo alcuni riferimenti al diritto romano e abbiamo cercato di apportare anche un'anima un po' più tecnologica e contemporanea quindi rileggere alcuni fenomeni come ad esempio le operazioni di fusione e scissione alla luce di quanto avviene con le cosiddette big tech che faccio riferimento a Amazon, Google, Facebook, Instagram. Infine, un aspetto, poi chiudo il mio intervento cercando appunto di rispettare la tempistica dei 5 minuti, la riflessione conclusiva vuole essere la seguente che è possibile che il diritto societario si ponga come modello per delle riflessioni che potrebbero essere svolte in sede pubblicistica costituzionalistica e a cosa mi riferisco? Mi riferisco che appartendo dal cosiddetto corp tech quindi un'intrusione tecnologica nel diritto societario sia possibile svolgere ulteriori riflessioni e questo perché? Perché non da ultimo dobbiamo ricordarci che Google ha elaborato se vogliamo una costituzione per gli esseri robotici o sintetici di cui dunque l'idea che delle realtà commerciali, quindi delle società, delle companies totalmente tecnologiche possano divenire un laboratorio empirico per trasportare da un ambiente circoscritto qual è quello societario l'inteso societario del diritto delle società a uno più ampio che è il diritto della società umana e a cosa mi riferisco ancora? Mi riferisco a una tesi che ho sostenuto in alcuni interventi relativo a uno nuovo status giuridico, quello che si dovrebbe paradossalmente riconoscere a delle nuove entità, ossia i robot e questo quindi con una costituzione che Google propone ai propri fini interni per disciplinare il rapporto tra esseri robotici e esseri umani, una possibile laboratorio empirico, analisi, riflessione che potrebbe essere trasportata in sede pubblicistica costituzionale per regolamentare in senso più ampio questa nuova forma di interazione. Io spero appunto di aver rispettato quanto mi ero prefissata come limite e ringrazio nuovamente per l'attenzione e per l'opportunità. Grazie mille. Io darei adesso la parola ad un relatore che è qui accanto a me alla mia sinistra, Roberto Ranucci. Anche a te Roberto ti prego di integrare la mia breve e scarna presentazione sul tuo lavoro qualora lo reputassi necessario. Grazie ancora e prego. Grazie Simone, siamo del tuoi, siamo conosciuti, insomma sei una persona amabile. Io sono professore di diritto commerciale, personale di mercatoria, quindi insomma quale collocazione migliore? Università mercatoria mi richiama al diritto dei mercanti, il research test book è di diritto societario che rappresenta la macro area che storicamente è più rappresentativa del diritto commerciale unitamente al diritto dei contratti. In effetti soprattutto in Italia nell'ultimo trentennio nel diritto commerciale diciamo che avevamo avuto un'espansione di un'altra branca del diritto che è quella del diritto della crisi alla quale poi negli ultimi anni più recente ancora direi negli ultimi dieci anni si è affiancato il diritto della crisi di legalità, quindi tutte le tematiche legate al sequestro e alla confisca di beni e della criminalità organizzata. Tuttavia nell'ultimissimo periodo lo studio del diritto societario ha conosciuto una nuova centralità che direi proprio questo testo lo dimostra perché è uscito probabilmente dalla dimensione strettamente tecnicistica della struttura delle società quindi a cui siamo abituati e per entrare in una dimensione nuova che forse neanche un po' più in consona come proprio lo ius mercatorum, il diritto della vita dei mercanti. Non è un caso che il sottotitolo sia proprio common law, metaverso e sostenibilità perché la riflessione del diritto societario sul diritto societario impone allo studioso, all'interprete ma anche all'operatore, una riflessione nuova. Perché il diritto societario è tornato in una situazione di centralità? Perché sta avvenendo meno uno dei capisaldi che abbiamo ritenuto essere stato nel corso degli anni che connotasse le società. C'è il fine di lucro. La teoria contrattualistica che ritenevamo essere ormai aver soppiantato quella istituzionalistica per cui il fine ultimo della società è quello di creare degli utili, il lucro dei partecipanti entra in crisi. Entra in crisi anche diciamo con la corporate social responsibility quindi la società, l'impresa che non deve avere più una soltanto esclusivamente una finalità lucrativa ma anche una una finalità sociale. Diciamo che le crepe già c'erano perché chiaramente il diritto commerciale non è un diritto della massimizzazione dell'utile dell'imprenditore rispetto a chiunque altro. Ascoltando l'intervento della dottoressa della Giustina il diritto commerciale è anche una una rilevanza pubblica nella misura in cui tutela una serie di eh di interessi diffusi. Eh non a caso si parla appunto degli stakeholders volendo riprendere una una terminologia una terminologia anglosassone. Cioè di tutti quei soggetti che entrano in contatto con 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 la società. Ma dicevo il adesso negli ultimi anni con l'introduzione ecco dei delle istanze ISG è entrata anche la CRS la corporate social responsibility ossia il la la società che non persegue più o non dovrebbe soltanto perseguire lo scopo di lucro ma anche eh raggiungere perseguire una ricchezza non strettamente eh monetizzabile ma anche quindi che sia eh tuteli eh ulteriori eh interessi interessi diversi. È un poco se vogliamo quello che ha fatto sempre la società cooperativa che non aveva come fine ultimo soltanto quello di eh massi di di conseguire far conseguire inutile ai soci cooperatori perché comunque anche lì l'interesse eh il eh il lo scopo mutualista è comunque uno scopo egoistico ma anche quello di migliorare le condizioni di tutto coloro che eh partecipavano alla società cooperativa o comunque che incontravano in contatto con 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 la società stessa. E del resto anche la l'articolo quarantuno della Costituzione eh ha sancito eh come ricordava già la dottoressa che l'iniziativa economica privata che non può svolgersi eh in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana adesso non deve arrecare danno neanche alla salute e all'ambiente. Però a questo punto eh si eh si pone un problema. Questi sono tutti quanti i bei principi perché la corporate social responsibility rischia di essere una sorta di filo di filantropia aziendale quindi oppure un'operazione d'immagine il il cosiddetto greenwashing ma deve essere quindi il il problema attuale e che eh gli autori ci fanno sui quali gli autori ci fanno riflettere nel loro nel loro bel testo è come si debba riempire ad esempio di contenuti di eh obblighi precettivi queste belle queste belle finalità perché altrimenti eh rimane sempre comunque il il fine ultimo della società che è quello di far perseguire degli utili alla ai soci. Pertanto e qui è il compito dell'interprete, il compito del legislatore nazionale e comunitario è quello proprio di eh individuare dei contenuti precettivi che quindi impongono gli amministratori delle determinate azioni dirette appunto a eh consentire il perseguimento di scopi alti rispetto al mero utile e badate bene che sono dei dei il cercare dei dei degli equilibri che sono molto complessi e sottili lo so è sotto gli occhi di tutti eh l'ilva eh oppure bagnoli futura ci sono degli interessi eh chiaramente ci sono degli interessi eh della eh della della proprietà ci sono gli interessi dei lavoratori c'è l'interesse l'interesse ambientale. Questi sono diciamo quelli più più famosi ma è più grandi nel nostro nel nostro panorama nazionale ma ce ne sono eh il ci sono sicuramente tante altre situazioni eh di di portata più piccola che comunque impongono una una riflessione seria e eh seria e organica. Il legislatore comunitario sul punto e gli autori ne danno atto e approfondiscono i temi sul sul problema della corporate social responsibility è è intervenuto cioè la si pensa alla corporate sostenibility reporting directive in tema di rendicontazione di di sostenibilità delle imprese la corporate sostenibili di due diligence directive in tema di due diligence in materia ambientale e di tutela dei diretti dei diritti umani. Ma un altro quindi anche sul punto il ripeto gli autori ci 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 sollecitano delle delle riflessioni e e vado a conclusione gli autori fanno un un ottimo lavoro al mio avviso perché ci lasciano una eh un'impostazione olistica del 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 diritto societario che come dicevo all'inizio non è più legata soltanto al mero tecnicismo del diritto delle società ma si apre a tutta una serie di eh tematiche anche quella della della tutela del dei 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 dati dei dati personali del resto il diritto è vita il diritto lo ius mercadorum è il diritto della vita dell'impresa e quindi il diritto deve confrontarsi con la realtà su quello con quello che succede e gli autori questo lo fanno quando ad esempio si pongono il problema sulla quantificabilità da un punto di vista economico dei dei dati dei dati personali possono essere conferiti dei dati personali hanno un valore economico oppure se quando si confrontano sul tema delle delle criptovalute sui dei criptoasset che insomma sono eh sono ben note sulla possibilità che si possano essere meno oggetto o mh oggetto di conferimento quindi questo approccio olistico eh rappresenta un per lo studioso costituisce certamente un importante eh spunto spunto di riflessione per approcciarsi al diritto commerciale in un'ottica eh più ampia e certamente più vicina a quella che poi è eh la realtà e che quindi si impone ad eh all'operatore io ringrazio gli autori ringrazio l'onorevole per l'ospitalità e ringrazio tutti grazie mille eh Roberto dottor Ranucci ma devo dire sì è vero eh dal metaverso l'intelligenza artificiale e robot come ha accennato la dottoressa della Giustina al diritto societario alla corporate social responsibility come ha accennato il dottor Ranucci e Roberto che può essere sì eh in parte guidata tramite norme di diritto e mi riferisco per esempio all'infortunistica e all'ambiente a cui tu stesso hai accennato ma anche può essere guidata da un punto di vista politico da agevolazioni fiscali e finanziamenti io immagino la green new economy eh come per esempio anche le situazioni dell'IVA e via via discorrendo e quindi eh ci sono degli aspetti che non sono più solo nazionali ma che cominciano a abbracciare non solo il nostro continente ma tutto il mondo quindi sono degli aspetti legali di diritto globali come accennava il professor De Gioia la differenza anche tra common law e civil law molto importante per chi si occupa da un punto di vista professionale e legale di questi aspetti non solo in Italia ma anche nel nel resto del mondo quindi con piacere sostengo pubblicazioni come queste eh che aprono i professionisti italiani al al mondo estero e proprio per questo abbiamo anche l'avvocato Valeriano Drago eh collegato eh da remoto direttamente da Londra che è il presidente di una eh importante associazione di avvocati italiani che operano al di fuori dei confini nazionali e a cui darei proprio la parola proprio per sentire il suo il suo commento e il il suo punto di vista su queste questioni quindi prego Valeriano Buon pomeriggio eh per me è un piacere e un onore essere qui oggi per la presentazione del research textbook di diritto societario scritto da Pier De Gioia e da Camilla della Giustina che ho conosciuto in questi giorni ringrazio gli autori e il professor eh Roberto Ranucci che ci ha accompagnato in questa presentazione. Un ringraziamento particolare lo voglio fare all'onorevole Simone Billi nella sua qualità di presidente del comitato degli italiani nel mondo presso la Camera dei Deputati per l'attenzione eh verso il mondo dei professionisti italiani all'estero e su tematiche di grandi interesse eh non solo come nel caso di oggi per gli operatori del diritto ma diciamo in un mondo sempre più interconnesso per tutti i nostri connazionali operatori economici che si devono interfacciare con sistemi giuridici completamente diversi da quello italiano. Il libro che abbiamo presentato oggi parla di istituti che trovano la propria regolamentazione nella common law, un sistema legale basato sulla giurisprudenza e sulla tradizione inglese del Regno Unito. Il libro è l'italiano e questa penso sia una importante novità essendo normalmente le pubblicazioni riguardanti il comolo scritte in lingua inglese. Come associazione internazionale Italoyers, l'associazione di cui sono presente, presidente, che è composta da avvocati italiani che lavorano all'estero ma anche da avvocati italiani che lavorano in Italia e che sono strettamente connessi diciamo o lavorano o sono internazionalisti o comunque sono estremamente connessi diciamo col contesto internazionale, la nostra associazione guarda con particolare interesse a questo tipo di pubblicazioni. Siamo presenti in oltre 20 nazioni nel mondo e siamo tutti avvocati italiani o professionisti in Italia o all'estero che parlano la lingua italiana. Dato il nostro carattere multinazionale e la presenza di molti dei nostri colleghi che operano nel campo del diritto internazionale spesso ci troviamo ad affrontare questioni legate a regime di common law. Questo libro scritto in italiano secondo me soddisfa una necessità molto specifica del nostro settore offrendo una grande opportunità di studio e approfondimento soprattutto nel contesto creato dal dopo Brexit. Nonostante la Brexit infatti il common law e in particolare parlando di diritto societario e il diritto delle partnerships mantengono ancora una grandissima importanza e ciò è dovuto a diversi motivi. Innanzitutto il common law offre un quadro flessibile e adattabile per le partnerships ad esempio. Questo significa che le parti coinvolte possono negoziare e stipulare accordi personalizzati che meglio si adattano alle loro esigenze specifiche e ciò è particolarmente importante in un ambiente in continua evoluzione e in un contesto internazionale in cui le companies possono trovarsi ad affrontare sfide complesse e mutevoli. In secondo luogo il diritto delle partnerships del common law è ampiamente riconosciuto e applicato in molti paesi al di fuori del Regno Unito e parlo di Australia, Stati Uniti, Canada e altri. E nonostante la Brexit molti stati hanno adottato elementi del sistema legale inglese e continuano a tutt'oggi a riconoscere e applicare il diritto societario basato sul common law. Ciò crea ovviamente una continuità giuridica che è di grande valore per le imprese che operano a livello internazionale e che dipendono da accordi di partnerships ben regolamentati. Inoltre il common law è noto per la sua flessibilità e capacità di adattarsi alle esigenze del mondo degli affari. Essendo basato sulla giurisprudenza si sviluppa e si adatta nel corso del tempo tenendo conto delle nuove sfide, delle nuove situazioni che si possono affrontare e ciò garantisce che il meccanismo continui a essere affidabile ed efficace per le imprese che cercano di collaborare e condividere risorse. Infine l'importanza del common law risiede nella sua universalità. Il common law con il suo approccio basato sulla giurisprudenza ha avuto un impatto significativo a livello globale. Molti paesi in tutto il mondo hanno adottato elementi del sistema giuridico inglese, inclusi i principi del diritto societario. Questo significa che le imprese che scelgono di operare con un regime basato sul common law possono contare su una certa continuità giuridica in tutto il mondo e ciò consente loro di costruire relazioni commerciali solide e prevedibili con partner internazionali, godendo di un quadro legale che è condiviso e riconosciuto in più giurisdizioni. In definitiva, nonostante le sfide e poste della Brexit, a mio parere l'importanza del common law rimane fondamentale a livello internazionale. Come dicevo, l'associazione Italo Royals, con la sua dimensione multinazionale e la presenza di avvocati che trattano il diritto internazionale, è particolarmente interessata a promuovere questo tipo di pubblicazioni e questo libro che tratta in modo approfondito il diritto societario nel contesto del common law soddisfa una necessità precisa all'interno della nostra comunità legale. L'accessibilità di questa pubblicazione in lingua italiana è essenziale per i professionisti nostri internazionali che devono affrontare questioni legali complesse e specifiche, offrendo loro un quadro condiviso e comprensibile. Pertanto mi sento di raccomandare vivamente l'acquisto di questo libro, in quanto rappresenta una risorsa preziosissima per lo studio del diritto societario. Come associazione organizzeremo per le prossime settimane un webinar, a cui abbiamo già invitato gli autori, dove potremo soffermarci con più tempo rispetto ad oggi, in modo più approfondito e tecnico su questo manuale. Ringrazio ancora una volta il Comitato Italiano del Mondo e in particolare l'On. Simone Billi per l'organizzazione, congratulandomi con gli autori Pier De Gioia Carabellese e Camilla Della Giustina per la pubblicazione del libro, sicuramente di grande valore per la comunità giuridica internazionale. Grazie a tutti, lascio per la parola all'On. Simone Billi. Grazie, grazie Valeriano, grazie Avvocato Drago. Quindi è importante, è importante aggiornarsi, come dicevi anche tu Avvocato Drago, per affrontare questioni legali sempre più complesse, è importante anche aggiornarsi su quello che succede e come si evolve la normativa all'estero, è importante, è sempre più importante anche avere contatti professionali con l'estero, per i professionisti che abitano in Italia e per i professionisti italiani che abitano all'estero, avere comunque contatti in altri paesi, perché il business e le situazioni su cui ci troviamo ad affrontare tutti i giorni, problematiche di diritto, sono sempre più situazioni che vanno al di fuori dei confini nazionali. È importante anche per noi legislatori seguire gli sviluppi, sia tecnologici, come già si diceva, sull'intelligenza artificiale, sui robot, sul metaverso, e anche quelli legislativi non solo nostri nazionali, ma anche all'estero, quindi libri come questo sono molto utili per poter rimanere aggiornati e per stimolare la discussione su questi argomenti. Io avrei una domanda, non so, professore, se vuole dire due parole, sull'introduzione realizzata per questo libro, che è di Francesco Fimmario, e sulla casa editrice, che è Cacucci. Sono curioso di avere da lei due parole su queste due... Grazie moltissimo, Presidente Onorevole Billi. Innanzitutto colgo l'occasione, mi aspettavo degli avvocati del diavolo cattivi, invece sono stati fin troppo benevoli. Voglio ringraziare il Professor Ranucci per aver avuto il tempo di leggere il libro e credo di averne tratto opinioni favorevoli. Sottolineo in particolare, correttamente accolto, lo spirito ISG, Corporate Social Responsibility, la tecnologia e la lettura interdisciplinare e le lenti costituzionali. E poi l'avvocato Drago per questo spunto, per aver sottolineato l'importanza di questo manuale in lingua inglese, quindi il common law reso intellegibile il diritto societario, e il diritto internazionale, in particolare il common law societario, reso ancora più intellegibile alla platea italiana attraverso l'uso della lingua inglese. Circa la domanda... Sì, volevo ringraziare tantissimo il Professor Fimeno di Unimercatorum, figura carismatica del diritto societario italiano, che ha voluto fare questa introduzione, in cui evidenzia l'importanza di questo libro e anche a lui benevolo, diciamo, questa innovatività, questa lettura costituzionale, questa unitarietà del diritto pubblico e del diritto privato, perché il diritto societario è storicamente il più avanzato delle diverse, rappresenta la punta più avanzata, l'ala marciante, mi pare abbia detto un secolo fa un giurista, l'ala marciante del diritto privato. Quindi l'introduzione del Professor Francesco Fimeno va a nobilitare questo libro, oltre che le pregevoli parole dei due relatori, e ovviamente la piacevole ospitalità della Camera dei Deputati e dell'On. Billy, che ringrazio nuovamente. Poi la casa editrice Cacucci, che è una delle case editrici nell'ambito giuridico in Italia più conosciute, che ha voluto ospitare questo libro e che ringrazio nuovamente. Questo libro è uscito per i caratteri della Cacucci Editore di Bari. Fra l'altro va a sottolineare, se posso dire, in un'Italia che a volte si discute di una questione meridionale, di una questione settentrionale, di un diverso ritmo economico che c'è fra l'Italia, da britannico, di origine italiana, vedo dopo vent'anni che sono fuori dall'Italia, noto con piacere che da un punto di vista giuridico il Sud è sempre più trainante, anzi forse a volte si può parlare di una Italia invertita, di un triangolo giuridico, diciamo così, trainante che il Sud Italia e alcune case editrici, alcuni autori, diciamo così, che vengono a questo triangolo ideale, Roma, Bari, Palermo, ne sono forse la testimonianza, ma questa ovviamente è una osservazione. A sottolineare come l'Italia è un'Italia, dal punto di vista giuridico va avanti e va avanti con spinte importanti che vengono anche dal Sud. Quindi grazie ancora e ovviamente un saluto, un ringraziamento particolare a questa brillantissima coautrice, non ancora trentenne, ventenne, diciamo così, che è stata più che coautore, diciamo assolutamente autrice come me al medesimo rango, l'essere primo è soltanto dovuto a ragioni alfabetiche, De Gioia, Della Giustina, ma assolutamente siamo gerarchicamente allo stesso livello come autori. Quindi grazie ancora all'onorevole Bili, cui do la parola finale. Grazie mille. Non so se avete ulteriori domande o commenti, altrimenti dichiaro chiusa la conferenza. Grazie ancora a voi, in bocca al lupo e complimenti per il lavoro che avete fatto per questo libro. Grazie ancora e un saluto a tutti. Ciao. Grazie. Grazie.